carote le regalo mio nipote diventano i bancorone, le scuote e le perguote, cellule eucariote allora, da capire, a nostri compagni, no così viene copiare il dato, ragazzi ma bello oggi siamo sulla terza parte del vlog che io e l'Holly stiamo andando non so dove, non so quando, non so il perché forse c'è anche un vlog nel mio canale, si, ma lui, questo deve essere? ragazzi, Axos08, Axos08, andateci perché è molto simpatico e l'Holly e sono andata nella mia prima live, ho fatto una cecchinata che manco forse ti fiorno, ma io l'ho fatto molto bene, non scherzo comunque ragazzi, per giocare con noi due dovete essere più forti di noi, però prima, questa sarà la terza e la penultima parte perché vorremmo, almeno, io voglio fare, vediamo chi fa tipo più palestra, vediamo chi è più veloce io non ne so fare pressioni, so giocare a calcio, mi sono fatto pure a male, mi sono andato, ma che? ci facevi il gelo in destra? no, è cre... non è gelo, come si chiama? crema, una cosa del genere che ti dico c'era? si com'è che è ancora da te dire? eh, ce l'ho da tre giorni ma però tu non ce l'hai tutti i pelli attaccati al corpo? in effetti i baffi, sono un vecchio di me, però comunque ragazzi, perché c'è un taxi davanti a noi? oh, taxi! siamo su GTA 5 bella, comunque ragazzi, questo essere vivente è molto bello di nome è Loli vuole sfidarmi su GTA Online e quando ci... e vi spoilerò una piccola cosa questa... uscirà a breve, un video con me che faremo 1v1 su GTA Online e vediamo chi è il più forte credo che è lui, però speriamo, no? devo solo la Revolver di Fnapp? si andatelo a tutti a seguire su Instagram e su YouTube ragazzi andate a seguirmi su Instagram, mi chiamo Filippo4574 non lo ricordo comunque io ho accesso a trattato basso e Yt e quanta roba Yt come? come Capitan Blaze eh, comunque eh, vabbè, che tristezza comunque che bel video morto no, 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 non mi morire è morto ma chi lo muoio? eh, no, dai, tanto e poi pure e poi il cadavere solo mangia il mio cane stasera si mangia il cadavere eh, no comunque ragazzi a parte gli scherzi quando ci sarà il quarto ma dico il quarto eh, vlog nella quarta parte che sarà anche l'ultima voglio proprio vedere chi è anche il più forte perché comunque non ne so fare pressioni ma che cazzo che video bello comunque mi sta durando troppo tre minuti bella questa barca bellissima che tanto non ce l'ho va bene eh e noi i nostri sogni comunque forse io se divento un calciatore difesa bravo cheat cheat al giorno un euro bene già la prima il primo passo comunque ragazzi ragazzi dobbiamo arrivare tutti e due a mille iscritti quindi dobbiamo anche condividere tutti quanti i video e i vlog ragazzi se arriviamo a lui e io se è mille così abbiamo supporto creator però possiamo fare i miei sempre privati no supporto creator possiamo fare i post possiamo fare tutto quello che volete voi ok ora puoi parlare supporto creator ci vuole mille i mille followers su Instagram no diecimila su Instagram se non hai mille iscritti ah ok ma come te li fai diecimila follower su Instagram che io il giorno non può rendersi in due mesi me li sono fatti comunque ragazzi ovviamente seguitemi su Instagram e se arriviamo ve lo dico ve lo giuro ciao ma chietta no sei pazza eh pazzo sono novemmi sì non sono ok vi lascio qua volate ragazzi in questo me lo vedete sì va bene ragazzi intanto questa questo essere vivente che sta parlando è mia madre mi hanno guardato molto tranquillo mamma ma dov'è che ti devo lasciare ma lasciami qua per strada ma dove è lì mi inizi che sto lasciando è lì sotto ma la cosa mi ha scritto tu a che ora vai alla riunione con i professori perché prima di fare sto vlog dovevo andare come si dice a una riunione per suonare il pianoforte è successo è succeduto comunque ragazzi altra che è succeduto vi metterò il cuoricino ragazzi vi volevo dire come promessa se arriviamo se arriviamo a 60 un tizio si vuole suicidare comunque ragazzi non lo posso vuole dire se arriviamo oh non devi suicidare ma vado ok se arriviamo a 60 o 50 persone che mi seguono faremo la prima live vai scendiamo intanto ragazzi stiamo scendendo è la bella Lamborghini è l'80 citto è Lamborghini un attimino Filippo ci sono macchine un attimino mamma dici il mio nome non ci dici ciao oh sto facendo vai che mi vuole non so 30 oh tizio sono tizio che si vuole buttare da meno 20 metri di scoglio comunque Lolli si che vuole ma niente arriviamo ma perché intanto ragazzi ci alleneremo un pochino per smaltire la ciccia non si vede molto con l'agropolo ma vabbè vabbè infatti si si vede molto ma raga ci vediamo alla quarta allora alla quarta e ultima parte ciao raga bella